Avola deteneva armi e droga dentro la propria abitazione, arrestato spacciatore. Ieri, nell'ambito dell'azione di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che sta impegnando gli uffici operativi della costura dei commissariati della provincia Aretosea, agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un giovane di 22 anni per il reato di detenzione a fine dello spaccio di droga. Gli investigatori, diretto dal dottor D'Arrigo, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno eseguito nell'abitazione dell'arrestato una perquisizione domiciliare dopo che hanno notato un giovane tossicodipendente entrare e uscire dalla casa. Pertanto i poliziotti eccedevano all'interno dell'immobile e sequestravano 0,50 grammi di eroina, 44 grammi di hashish, 5 grammi di marioana, tre bilancine di precisione, una somma di 745 euro, una pistola tamburo a salve, priva di tappo rosso calibro 38, 96 cartucce a salve calibro 38, un rilevatore di presenza di microspie e di GPS perfettamente funzionante. Infine, in attesa della celebrazione del rito direttissimo e suddisposizione dell'autorità giudiziaria competente, il giovane è stato opposto agli arresti domiciliari.